è il 1887 siamo a londra precisamente al numero 16 di una strada chiamata montpilie qui si trova un bellissimo edificio che presto comincerà ad impregnarsi di dolore e di tristezza in questa dimora vive una bambina di 12 anni di nome ann inchfield questa un giorno sale in cima alla torre dell'edificio e salta giù uccidendosi passano quasi 50 anni siamo nel 1934 e una bambinaia in un'inspiegabile esplosione di rabbia lancia una bambina giù dalla torre della casa numero 16 di montpilie e un attimo dopo si suicida lasciandosi cadere anche lei da quella maledetta torre siamo nel 1944 la seconda guerra mondiale sta giungendo al termine in una londra approvata dalla guerra la casa numero 16 montpilie è vuota lo è dalla tragedia che vi si consumò dieci anni prima nessuno vuole entrare più in quell'edificio non solo per i tristi eventi che lo hanno coinvolto ma anche per via di diversi strani fenomeni porte che sbattono e rumori di passi senza che ci sia nessuno in casa un disgustoso odore di zolfo e oggetti che scompaiono senza alcuna spiegazione Andrew green un ragazzino appassionato di paranormale convince il padre a farsi accompagnare a visitare la dimora al numero 16 di montpilie dopo aver controllato diverse stanze del triste edificio Andrew si arrampica la scala che porta in cima alla torre e ha l'impressione che due mani invisibili lo stiano aiutando a salire una volta arrivato in cima il ragazzino osserva il mare di tetti sottostante e all'improvviso un crescente irrefrenabile impulso a buttarsi dalla torre una voce nella sua testa gli dice di andare al parapetto ed Andrew obbedisce e nota intorno a sé degli strani simboli scolpiti nella muratura la voce dice al ragazzino che solo pochi centimetri lo separano dal giardino e che non si farà male così Andrew si prepara a saltare di sotto ma viene bloccato dal padre che per fortuna lo aveva seguito sulla torre il ragazzino uscito dall'edificio scatta un'ultima foto alla casa e in una finestra sembra esserci il fantasma di una bambina in abiti vittoriani anni dopo Andrew green scopre che nella casa numero 16 di montpilier ci sono stati ben 20 suicidi e viene contattato da un'anziana che verso la fine dell'ottocento lavorava come domestica nella tetra di mora questa racconta ad Andrew che ogni venerdì venivano portati dei tappeti e delle candele nere in una delle stanze della torre qui secondo l'anziana si svolgevano dei rituali di magia nera che sarebbero la causa per cui la dimora numero 16 di mompilie è maledetta questa teoria combacia con gli strani simboli scolpiti nella muratura della torre e dunque questa la spiegazione dell'incredibile catena di suicidi che ha caratterizzato il misterioso edificio londinese e tutta opera di forze magiche oscure oggi la casa numero 16 di mompilie non esiste più è stata demolita nel 1970 per fare spazio a un nuovo blocco di caseggiati nonostante l'edificio maledetto non ci sia più gli abitanti della zona continuano ad essere testimoni di fenomeni soprannaturali se il video ti è piaciuto metti un like un commento iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche a presto un nuovo video ciao